Grazie a tutti, oggi è stato straordinato, perché mi sembra che il tempo non è più fluido, ma è stagionato completamente. Quando mi ricevi qualche reago per il mio lavoro, a parte per il mio insegnamento, perché mi examinato a questo tempo, e mi ricordo che il tutto burocratico apparato che è sul braccio degli insegnanti e degli insegnanti, come la necessità, lerni e instrui per rete, mal facili la comunicazione in generale, perché tutto è molto complico, formale, perché si perdono il cielo, che si tratta di avere il horizonte, e navigano in l'oceano dell'azio per andare, il horizonte, senza iam haino, perché lernato non è finito. Bene, siamo tempestati, a tutti mediti. Resto con noi, con mediti, con noi. Grazie. Saluto, e buon veneno a mia nuova Zamenhofa medito. Chodio, mi volas leghi, cai mediti con vi, sur articolo, el, la Gazetto Lai Sperantisto, qiu aperis, en la iaro, 1893. Mi è stas grande della fino della pagio, cent sestec, quin. Con gioio, con gioio, mi rapportas al niai amicoi, che, dank alla tuta fortigita stato de nia afero, la creado della longe attendita, Ligo, Academio, Esperantista, farigis fine ebla. Nifondas nun, tian ligon, gi, ne havas multain paragrafoin, cai complicitan regularon, gi, ne havas presidantoin, nec comitatoin. Ci consistas el ciui efectivai esperantistoi, tio estas, abbonantui de nia centro ofiziala Gazetto, cai conducados siein aferoin tre simple. Carai, cia malsimilezzo con la nuna esperanto movado, alegiloi, cotisoi, estraranoi, ciui demisias. Cioviszias la differenzon intercomitatano a, bo, caizzo, en ue a, mi, ne, verdire. Sainas al mi, che la burocratigio de la movado estas umu, e la cefai causoi de gia criso, multa iunae homoi foriras, cai perdas la entusiasmon en la tuta afero, cai, in tiu senso, demas pri la Zamenhofa interpreto de la afero, cun maiuscla a, giuste protio. Ili eniras, cai faras laboron por plenigi paperoin. Ebleh, mi devas pripensi la structurigion de la esperanto mondo, aparte, nun, ciam ni estas, comence de la nova, covima epoco. Ien mia instigo cun mediti. Mine havas respondoin. Dankon provia atento, gis morgau, cai ciel ciam, antauen, sen fine. Amelia Caупo Caipo Ca Hispanic Cauche Caucho Ca pé Caucho 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 Grazie a tutti.